Grazie a tutti 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 Il Sassuolo ha offerto un'ottima prestazione nell'ultimo incontro soprattutto dal punto di vista tattico Ha rischiato tanto mettendo in campo contemporaneamente molti attaccanti ma alla fine si è rivelata la scelta giusta se non fosse stato per lui probabilmente avrebbero perso Canales cerca di allungare il gioco Marchese è fuori gioco Marchese era in fuori gioco il portiere la calcia lontano ottima pressione la sua palla recuperata Biondini allarga il gioco a destra interessante azione sulla fascia destra e passa Marchese schiaccia il piede sull'acceleratore ancora fuori dall'aria allarga sulla fascia palla in profondità sulla fascia cross verso il C incornata Biondini che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria allontana il pericolo palla in out ci sarà rimessa laterale cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia pallone in aria e l'arbitro manda tutti a prendere un treccaldo si chiude così il primo tempo nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria sarà interessante eseguire l'evoluzione della gara nella seconda parte la difesa la difesa fino a qui è stata perfetta non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare stanno facendo davvero molto bene nessun gol ancora 0-0 vedremo se arriveranno nel secondo tempo partiti e speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni e dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 gocco morbido per Ardi c'è l'opportunità per il contropiede queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio prova il compagno in buona posizione prova a verticalizzare e con occasione di contropiede cerca la profondità sulla fascia può cercare il taglio in mezzo prova il filtrante intercetta il passaggio pericolo non c'era spazio Biondini da lì può segnare riceve in ottima posizione Berardi non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così spalle alla porta arriva nella tre quarti avversaria si libera la grande occasione sulla destra la palla viene rigiocata verso l'interno non può sbagliare traversone verso il centro qui può partire il contropiede palla larga in profondità sulla fascia è libero bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo potrebbe essere un contropiede interessante questo peccato vuole la profondità Marchese si fa avanti sulla corsia di destra ottima discesa sulla destra Marchese conclusione bellissima esecuzione gran gol che gol pazzesco un gol pesantissimo questo soprattutto a questo punto della gara un gol veramente straordinario mandzukic porta a casa la terza rete della stagione attenzione a bordo campo mi sembra ci sia una sostituzione in effetti non ne aveva più l'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo si ricomincia dall'1 a 0 il vero avversario ora è la stanchezza non devono commettere passi falsi tolo cannavaro il suo pallone è morbido prova a giocarle in avanti ma non si è capito con il compagno dopo tre sconfitte di fila la quarta sembra essere la volta buona mancano solo pochi istanti alla fine di quella che sembrava una vera e propria maledizione cerca lo spunto palla al centro c'è il colpo di testa colpo di testa che si perde sul fondo sembra che il mister voglia fare un altro cambio ecco ora viene schierata una torre sarà utile in entrambe le aree di rigore nel gioco aereo pochi minuti addirittura secondi e sarà finita e c'è il buato del pubblico si chiude la sfida triplice fischio dell'arbitro una gara vincente la vittoria poteva andare da una parte o dall'altra l'ha decisa un solo gol qual è la tua analisi di questa gara Luca? le continue sovrapposizioni e i tanti cross hanno permesso di attaccare in modo efficace e soprattutto decisivo questa vittoria è nata da un ricorso sistematico al cross Fabio hanno sfruttato molto bene le fasce mettendo in mezzo molti palloni pericolosi gli avversari hanno perso perché non sono riusciti ad arginare i loro esterni siamo giunti al termine di questa bella serata di calcio un saluto da Fabio Cheressa e Luca Marcheggiani paura 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 Grazie a tutti.